ah eppure questa è fatta amici del web siamo qui a salerno alle lavanderie onda blu stiamo girando questa meravigliosa serie televisiva scritta da antonio ruocco con la regia di antonio ruocco con due grandi attori meravigliosi ciro schermo e mauro di rosa io faccio un piccolo ruolo all'interno di una puntata non voglio non voglio svelare guardate la serie onda bravo